Siamo a Scilla e siamo con Arturo, ecco questo panino con il polipo, intanto come nasce questa idea di fare questo panino? Quest'idea nasce con le nostre materie prime, tutto il mare, roba di mare, prepariamo anche panini col pesce spada di vari tipi e ora vi farò vedere come prepariamo questo panino col polipo, gli ingredienti che mettiamo Quindi polipo e che cosa mettiamo? Polipo è una cipolla fatta in agrodolce condita con dei pomodori secchi Quindi parliamo del prodotto del territorio? Tutto prodotto chilometro zero, cipolla di tropea, tutto chilometro zero Quindi andiamo a realizzare il panino E questa è una ciabatta particolare? Questa è una ciabatta che ci fa il forno Quindi è particolare che poi permette sulla piastra, giusto? Sì, viene fatta come potete vedere è un pochettino più chiaro perché la cottura viene rallentata Ecco questo è il polipo pescato qua nel nostro mare Polipo sempre chilometro zero, bollito, solo bollito e tagliato a rondelle Andiamo ad aggiare il polipo Abbondante perché sennò la gente poi dice che il polipo è scappato Questa è la cipolla che viene preparata E come abbiamo fatto che la prepariamo la cipolla? Cipolla in agrodolce preparata, cottura a fuoco lento, due rette di cottura con calma E pomodori secchi, tutta roba nostra, tutta roba chilometro zero Anche il pomodoro secco? Tutta roba calabrese 100% Noi dobbiamo lavorare col territorio Oltre la cipolla abbiamo terminato Mettiamo un pochettino di burrata Quindi la burrata Un pochettino di burrata Tutto fatto fresca al momento E con questo accostamento tra il mare e il formaggio Perché la burrata ha quella consistenza morbida e di latte Ha quella consistenza che imbocca E tutto il sapore si mischia e dà un gradevole aroma Quindi lo andiamo a chiudere Lo chiudiamo e lo mettiamo sotto piastra a 220 gradi Per quanto lo mettiamo? 3-4 minuti Ecco 3-4 minuti e già è pronto il panino Lo possiamo servire Certo, lo serviamo tagliato a metà E lo mangiamo al tavolo Ritorneremo nei prossimi giorni Perché lei ci deve fare Vi farò vedere le pinze Oltre le pinze Il panino col pesce spada Con la cipolla in agrodocce Che prepariamo sempre noi Ricordiamo dove siete A Scilla Roxy Pub Sulla via Marina Alla fine della via Marina